Palazzo Uffici Addio ormai sembra proprio di sì. La giunta comunale si era data fino al termine del mese di ottobre per stabilire cosa fare del progetto che prevedeva la realizzazione del nuovo edificio nell'area Ex Unicem e per capire se ci siano alternative valide. L'approfondimento sta andando però per le lunghe ma una prima certezza sembra esserci. Il progetto da oltre 20 milioni di euro sarà messo in un cassetto che non verrà più riaperto. Tutta colpa della crisi economica che ha bloccato il mercato immobiliare. Un crollo dei prezzi che non rende più sostenibile economicamente l'operazione. Il comune voleva infatti pagare interamente Palazzo Uffici vendendo tutte le sedie ed eccezioni del municipio ma il valore degli immobili e la quotazione attuale non arriverebbe nemmeno lontanamente a coprire la somma necessaria e in cassa non ci sono i milioni di euro per pagare la differenza quindi addia quel progetto. Tra l'altro per la soddisfazione di alcune delle forze politiche che compongono la maggioranza del sindaco Dosi. La giunta resta però convinta che la razionalizzazione degli uffici comunali sia indispensabile quindi prosegue il lavoro per trovare la soluzione migliore magari puntando sui beni demaniali che potrebbero essere trasferiti all'amministrazione in particolare le caserme. Giovedì un team di funzionari da Roma e Bologna sarà a Piacenza per un importante incontro.